o vediamo che roba fighissima lui tamburi e qui siamo l'apoteosi all'apoteosi ragazzi di quello che può fare otwill sull'acid della grandissima spettacolare ormai nel mio cuore milestone di milano che sono bravissimi ragazzi tanto di cappello comprate il gioco comprate tutti i giochi di questa software house perché è meravigliosa otwill il camion di optimus prime ragazzi ottimus prime lo possiamo usare in otwill sull'acid raga mio dio ottimus prime che meraviglia questa librea che meraviglia che ricordi del film mamma mia chi non ha mai giocato a transforme ragazzi transforme dai film ai giochi che potevamo giocarci da bambini ma anche allora vendono il grandissimo il grandissimo il grandissimo transformer camioncino della hot wheels ciao a tutti ragazzi